Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Dopo aver analizzato i principali predatori della terraferma e dell'acqua, alias il Mosasauro, non ci resta che addentrarci nella storia degli Pterosauri riportati in vita dalla Ingen. Gli Pterosauri del Jurassic Park presentano alcuni aspetti da chiarire e alcuni piccoli misteri degni di attenzione. Quindi, bando alle ciance e sotto con l'analisi della storia dei rettili volanti del Jurassic Park e del Jurassic World. I primi Pterosauri riportati in vita dalla Ingen appartengono alla specie Pteranodon, un rettile volante dotato di un'impressionante apertura alare che poteva raggiungere i 5 metri nei maschi e i 3 nelle femmine. Il nome, che deriva dal greco, è traducibile in ala senza denti, a sottolineare che il lungo becco di queste creature fosse appunto sprovvisto di dentatura. Almeno nella sua versione originale risalente al Mesozoico. Nella saga di Jurassic Park, spesso e volentieri, queste creature hanno dei denti. Come per tutti gli animali del Jurassic Park, anche gli Pteranodonti furono riportati in vita su Isla Sorna, all'interno dei laboratori Ingen del celebre sito B. Qui era stato edificato un edificio apposito per la crescita dei rettili volanti, una grande voliera che avrebbe ospitato le creature sino al loro trasferimento nel parco di Isla Nublar, dove sarebbero stati accolti in un'altra ampia voliera. La Ingen, già nel corso degli anni 90, progettò diverse varianti di Pteranodonte. Una piccola curiosità prima di analizzare le varianti. Nella versione autentica, solo gli Pteranodonti maschi possedevano la tipica cresta ossea nell'area posteriore del cranio. Nei film del Jurassic Park non sembra essere presente questo dimorfismo sessuale, visto che tutti gli esemplari mostrati posseggono la cresta. Evidentemente alterare il DNA comporta sempre dei cambiamenti, anche inaspettati. Ovviamente qui si innesca anche una scelta di design, necessaria per rendere più iconico l'aspetto dei rettili volanti per il grande pubblico. Ma tornando alle diverse varianti di Pteranodonte, i primi che abbiamo occasione di osservare, seppur per breve tempo, i primi che abbiamo occasione di osservare, seppur per breve tempo, sono quelli mostrati nelle sequenze finali di Il Mondo Perduto. L'aspetto di queste creature ricorda quello degli uccelli, con tanto di posa bipede sui rami e un collo alquanto flesso, per non parlare anche del verso che la creatura emette che sa abbastanza di volatile. A livello cromatico il torace è blu-azzurro, mentre le ampie ali hanno una tonalità del giallo. Secondo i report pubblicati dal Dinosaur Protection Group, nel 1993 su Isla Sorna erano stati cresciuti 10 esemplari di Pteranodon, il cui numero era probabilmente aumentato nei 4 anni successivi. Quando l'uragano Clarissa colpì le strutture del sito B, alcuni pterosauri riuscirono a fuggire e a vagare liberi per l'isola. Anche loro furono in grado di neutralizzare gli effetti della lisino-deficienza, nutriendosi di pesci e di piccoli animali terrestri ricchi proprio di tale amminoacido. Nei primi script del Mondo Perduto, gli Pteranodonti non sarebbero stati delle mere comparse. Come emerge dagli storyboard, purtroppo poi scartati, i rettili volanti avrebbero dovuto attaccare gli elicotteri di recupero della Ingen, mettendoli in seria difficoltà, forse facendoli persino precipitare. Ad ogni modo questa scena fu tagliata e gli Pteranodonti ebbero solo pochi secondi di presenza a schermo. Ma la grande occasione di riscatto sarebbe arrivata con il terzo film del franchise, Jurassic Park. In Jurassic Park 3 vediamo infatti un'altra variante degli Pteranodonti creati dalla Ingen. A differenza di quelli del film precedente, questi pterosauri appaiono ben più grandi, di colore giallo-ocra con striature nere. La loro apertura alare è davvero notevole, tanto che alcuni l'hanno paragonata a quella del Quetzacoatol, uno dei più grandi pterosauri mai esistiti. Queste dimensioni extra-large potrebbero essere figlie dell'uso di un ceppo di DNA diverso rispetto a quello utilizzato per la prima variante. Come sempre la Ingen dovette colmare le lacune nel genoma delle creature, quindi è facile produrre animali diversi in base al DNA impiegato per tale scopo. Gli Pteranodonti di Jurassic Park 3 rimasero chiusi nella loro grande voliera fino al 2001. Evidentemente l'uragano Clarisse non l'aveva danneggiata a sufficienza da consentirne la fuga. Come fecero sopravvivere e addirittura proliferare all'interno della voliera? La principale fonte di cibo da cui attinsero fu sicuramente il corso d'acqua che attraversava la gabbia. Gli Pteranodonti sono esperti pescatori e il fiume in questione era ricco di pesce, come vediamo proprio in una scena di Jurassic Park 3. Inoltre all'interno della voliera ci vengono mostrate delle ossa umane, precisamente nei pressi di un nido degli Pteranodonti. Ma chi diavolo erano quelle persone? Non potevano essere i membri della spedizione del 97, né l'equipaggio della Dinosaur, la barca vista all'inizio di Jurassic Park 3, visto che la voliera al tempo era chiusa. Possiamo ipotizzare che si tratti di alcuni membri della squadra segreta Ingen che condusse esperimenti illegali su Sorna, gli esperimenti che portarono alla nascita dello spinosauro e di altri dinosauri non presenti nelle liste Ingen. Forse un gruppo di ricercatori o di addetti alla sicurezza ha esplorato la voliera ed è finita preda degli Pteranodonti, i quali hanno più volte dimostrato un comportamento molto aggressivo, attaccando con ferocia Alan e gli altri e ferendo gravemente il povero Billy. A seguito degli eventi di Jurassic Park 3, gli Pterosauri di Sorna furono liberi di vagare e decisero addirittura di lasciare l'isola in cerca di nuove terre in cui nidificare. La situazione avrebbe potuto rivelarsi critica, tanto che Simon Masrani, nuovo proprietario della Ingen dopo la morte di John Hammond, decise di risolvere il problema alla radice. Una squadra della divisione sicurezza della Ingen, guidata da Vic Hoskins, venne inviata sulle tracce dei rettili volanti, che alla fine furono individuati e uccisi in un'area non ben precisata del Canada. Ciò permise ad Hoskins di guadagnare la stima di Masrani, che lo avrebbe poi promosso a capo della divisione sicurezza. E a proposito di Masrani, è ora di analizzare la terza variante di Pterosauri visti nel franchise, quelli del Jurassic World. Masrani decise di riaprire il parco su Isla Nublar, e incluse tra le attrazioni da offrire al pubblico anche una grande voliera, che avrebbe ospitato diverse specie di Pterosauri. Edificata nel 2004, la voliera del Jurassic World era posizionata nei pressi di un fiume, per garantire il necessario apporto di pesce ai rettili volanti ivi ospitati. Oltre a una nuova versione degli pteranodonti, gli scienziati Ingen riportarono in vita anche il più piccolo Dimorphodon, un agile predatore lungo circa 2 metri, dedito a un'alimentazione a base di pesce. Quando l'Indominus Rex infranse la voliera, i rettili volanti si riversarono fuori, attaccando l'elicottero di Masrani, vi ricorda qualcosa? Che precipitò danneggiando ulteriormente la cupola. Tanto gli pteranodonti, quanto i Dimorphodon, fuggirono in massa, riversandosi su Main Street e attaccando i visitatori stipati in attesa dell'evacuazione. Ancora una volta gli pterosauri si dimostrarono piuttosto aggressivi, tentarono persino di afferrare alcuni cuccioli di dinosauro, nonché diverse persone, inclusa la povera assistente di Claire Dearing che non fece esattamente una bella fine. Terminato l'attacco, diversi pterosauri decisero di lasciare Isla Nublar, dirigendosi così verso il mare aperto, e quindi verso la terraferma. Alcuni di essi rimasero su Nublar, ma l'eruzione del Monte Sibo li convinse a fuggire. Comunque tre esemplari finirono nelle mani dei mercenari di Eli Mills e furono trasportati nella magione Lockwood, in California del nord. A seguito del caos scatenato dall'Indoraptor, gli pterosauri catturati fuggirono. Nelle sequenze finali di Jurassic World Fallen Kingdom li vediamo volare sopra l'oceano, e poi ancora ci vengono mostrati mentre si arrampicano su un edificio di Las Vegas. Durante i titoli di coda di Battle at Big Rock, il corto dedicato all'allosauro, vediamo uno pteranodonte afferrare al volo una colomba durante un matrimonio. Credo proprio che i temibili rettili volanti avranno un bel ruolo in Jurassic World Dominion, del resto sono liberi di vagare per il globo. Insomma, gli pterosauri del Jurassic Park si sono dimostrati animali temibili e aggressivi, tanto da essere tirati in ballo in due eventi misteriosi che, ancora oggi, affascinano i fan della saga. Mi riferisco all'incidente della SS Venture e alla barca di Jurassic Park 3. Ho già trattato questi due piccoli enigmi in video specifici a cui vi rimando. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Se avete domande, curiosità, suggerimenti, la sezione commenti vi aspetta. Se volete supportare il lavoro che faccio qui su YouTube potete farlo attraverso la funzione abbonamenti, tramite Paypal oppure visitando il mio profilo tp, link in descrizione. Se volete seguirmi sui social per rimanere aggiornati basta cercare Lorenzo Divus sia su Facebook che su Instagram e non mi resta che ringraziarvi per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!